Sbarcati a Lampedusa, gli 11 cadaveri recuperati ieri in area SAR libica dalla nave ONG Geobarens dei Medici Senza Frontiere. Ad autorizzare lo sbarco alle salme è stato il Ministero dell'Interno. Dopo il trasbordo delle salme, la Geobarens, che ha a bordo 165 persone, ha proseguito per il porto sicuro assegnato di Genova. Gli 11 cadaveri di migranti erano stati avvistati ieri, dopo un naufragio, dall'aereo Sea Bird di Sea Watch. E la nave Geobarens di Medici Senza Frontiere, che si trovava in zona dopo aver soccorso due imbarcazioni, è stata autorizzata al recupero. La Capitaneria di Lampedusa ha già rappresentato all'Italian Maritime Rescue Coordination Center di Roma le criticità legate alla gestione di tanti cadaveri sull'isola. Nella piccola camera mortuaria del cimitero di Calabisana c'è ancora il ferretro della neonata di 5 mesi, figlia di Guineani, che è stata trovata morta quando la nave Humanity e la ONG tedesca SOS Humanity ha soccorso il barchino. La prefettura di Agrigento ha già attivato entrambe le ditte di pompe funebri per gli 11 cadaveri. E in contemporanea, il prefetto Filippo Romano ha iniziato a cercare posti nei cimiteri della provincia, nell'attesa all'apertura del cimitero islamico di Palma di Montechiaro, ancora una volta il prefetto sta cercando disponibilità da parte dei sindaci e l'agrigentino per dare sepoltura agli 11 ferretri. Sono 180 i migranti sbarcati durante la notte dopo che le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno soccorso tre imbarcazioni, due salpate da Sfax in Tunisia e una da Tajura in Libia. A bordo gruppi di 50, 78 e 52 persone originarie di Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal, Cameron, Guinea e Sierra Leone. Ieri sull'isola c'erano stati sei approdi con un totale di 163 persone. Al momento all'hotspot di Contrada in Briacola sono presenti 326 ospiti.